ciao a tutti sono sempre io maddestroyer benvenuti in questo nuovo video riappaio una delle mie consuete assolite riapparizioni dopo mesi e mesi però questa volta è diverso molte volte ho spiegato perché scompaio e poi ricompaio non mi dilungo ma vi dico che questa volta è stato diverso questa volta è stato diverso perché il primo mese non ho potuto fisicamente fare video su youtube ho preso altre abitudini che è successo praticamente non per spaventarvi ma ho subito un grave infortunio un infortunio che mi è venuto e mi sta tenendo anche adesso lontano dai campetti io non gioco a calcio con un club con una società ma gioco a calcio e diciamo ci organizziamo con un gruppo con un gruppo nostro che è successo che io ho subito un grave infortunio ho avuto una distorsione molto grave della caviglia destra è successo giocando la partita di calcetto e tutto ciò non solo mi ha causato un danno fisico e anche adesso fortunatamente sto recuperando sto tornando esattamente come prima ma mi ha cambiato molto anche l'abitudine perché non solo non ho fatto più video su youtube ma per un bel periodo di tempo non ne ho nemmeno visti non ho voluto fare due video diversi mi sembrava più comodo farne uno uno intero che spiegava il perché di questa assenza e un nuovo video per tornare parliamo di amerciano un giocatore che come sapete bene che mi ha seguito mi sta molto a cuore partiamo dal fatto che come mi era immaginato con la situazione iniziale quando è finito il mercato di estivo la juve giocava con tantissimi cioè aveva in rosa tantissimi centrocampisti ben sette si è arrivata alla conclusione forse per questo motivo più il motivo della plus valenza perché merciano è stato un giocatore pagato zero e venduto a una certa cifra farebbe comodo al bilancio e sappiamo che la juve punta molto su questo però però parlando di campo molti dicono eh ma evercian probabilmente ovviamente ognuno sa la sua opinione probabilmente evercian è un giocatore che non rientra nei piani di sarri è un giocatore che tatticamente è ecco è scomodo per sarri siamo sicuri di questo io sono il primo a dire di no anche sarri ha bisogno per esempio di maturi maturi è un giocatore che ovviamente è banale dirlo ma quando non ha la palla quando insomma siamo in fase difensiva preziosissimo questo è negabile poi quando che quando gli passi il pallone non sta in piedi e il vento lo butta giù questo purtroppo è vero non ti aspetti mai la giocata e qualità ma difensivamente abbiamo visto che alla juve voi se mi se vi mettete ad osservare solo maturi movimenti di maturi che magari non può essere interessante per alcuni ma per altri lo sarà vedete che fai dei movimenti preziosissimi importantissimi ma parliamo di movimenti che impediscono di aprire corridoi di aprire buchi che in difesa ti penalizzano tantissimo quindi è molto prezioso per l'equilibrio difensivo ma oltre che maturi insomma parliamo di questo giocatore che serve a sarri difensivamente emre shan ovviamente è un giocatore abbastanza diverso ma tu dì ok la qualità difensiva insomma il fatto di la dinamicità la resistenza questo li accomuna ma emre shan volevo dire è un giocatore che ti dà tanto anche in attacco io mi ricordo due partite l'anno scorso contro l'atletico madrid dell'ajax l'ajax fuori casa quando siamo stati eliminati lui cesni e cristiano ronaldo questo se andate indietro sul video dell'ajax lo dico non è che lo dico adesso l'ho già detto cristiano ronaldo cesni e emre shan sono stati gli unici giocatori ad avere personalità in quella partita ronaldo perché ci prova sempre cesni perché non si sa quante parate ci ha fatto ed emre shan perché era l'unico l'unico che anche quando la situazione ti si capovolge contro che anche quando stai perdendo e c'è pressione l'unico che ha avuto il coraggio di fare giocate individuali magari era difficile giocare la palla a terra a passaggi era l'unico che provava era l'unico che che aveva personalità ragazzi avere personalità dico questo per riacchiudere tutto quanto in una parola e ha dimostrato soprattutto con l'atletico madrid deve aver fatto un partitone di aver corso 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 ma soprattutto servito i compagni una grinta incredibile quindi a livello di giocatore io reputo emre shan un giocatore straordinario io ho sentito voci sul liverpool sul milan sul dortmund ma secondo me se liverpool se lo riprendesse sarebbe veramente una roba assurda perché in quel centrocampo ce lo vedo perfettamente ci hanno tanti centrocampisti anche loro quindi non so dove lo mettano se riesco a giocare tante partite se ragiono con il cuore emre shan è una soluzione straordinaria e se è per questo io non venderei neanche nessuno nella squadra perché sono affezionato a tutti i giocatori ma anche ragionando con la testa io lo terrei e venderei qualcun altro purtroppo pur essendo affezionato a tutti i giocatori qualcuno bisogna vendere perché siamo veramente tanti al centrocampo ma la società ragionando con la testa non la penserebbe come me ragionando con la testa avete un centrocampo di sette giocatori che sono tanti di cui ognuno prende uno stipendio comunque significativo e vede la possibilità di un ragazzo preso a zero di fare plus valenza di 40 milioni e questo è un aspetto che diciamo condiziona abbastanza cosa ne pensate voi cioè nel senso secondo voi a merceano è un giocatore che non vale niente oppure un giocatore forte ma ce ne stanno altri meglio anche per il fatto che se noi andiamo a vedere il nostro centrocampo giocatori come madrid e chedira quest'anno te lo possono fare benissimo oddio cioè nel senso te lo possono fare bisogna vedere i prossimi anni anche prospettiva futuro e merceano può rappresentare un giocatore stabile su cui puoi puntare adesso adesso e per i prossimi sei cinque anni quindi rappresenta una valida opzione anche per il futuro ho detto tutto e ci vediamo sempre qui sul mio canale ciao